Musica Serenissimi Allora, rieccoci, adesso dicevo che io in questa parte della trasmissione mi riposo Ma è successo però Eh no, perché praticamente è gestita da te questa parte Allora, andiamo avanti Allora, siamo andati a Quartogiaro soprattutto Dobbiamo presentare gli ospiti Sì, infatti stavo parlando di Municipio 8 Chi c'è qui? Ci doveva essere il Presidente del Municipio 8 No, l'assessore entrante anche se non ho capito male E adesso quando si formerà la nuova Giunta Esatto, esatto Fabio Galesi Sarà la Presidente Come prudente Sarà la neopresidente Giulia Pelucchi che salutiamo Doveva essere qui stasera, ha avuto un impegno improvviso Sì Spero che torni a trovarci presto Sicuramente lo farà Ha già fatto però totalmente outing rispetto alle tue deleghe addirittura Cioè tu non ti preoccupare, sei dentro Non ti preoccupare Allora, e dall'altra parte Marco Vestetti Neo Adesso a Palazzo Marino Per una consigliatura, giusto? Presidente del Municipio 7 Municipio 7 Che è confinante con l'8 Sì Sono stati vicini di casa E quindi ovviamente Ne sa anche lui Passo dall'altra parte la barricata Ma io l'ho detto Guarda, adesso dico Una cosa che A lui non ne ha mai ricomperato la voce No, ancora un pochino No, hai ridotto un po' meglio Un po' meglio Un po' meglio Un po' meglio No, io la notte dello spoglio delle elezioni Quando ormai il risultato era evidente Ho chiamato tutti i miei colleghi presidenti di Municipio È vero, confermo E a fare loro E le gole di buon lavoro Dicendo a tutti Che anche da Palazzo Marino Sarò a disposizione di tutti Per collaborare Per rafforzare l'istituzione del Municipio Ho fatto per 5 anni il presidente È difficile spogliarsi È certo Perché è una cosa forte E quindi sarò Al loro fianco Lo vorranno Lo ritiranno opportuno Per delle battaglie comuni Per rinforzare un po' Queste istituzioni Confermo quanto ha detto Perché ce l'ha comunicato Per 5 anni Una delle prime chiamate È stata di bestia Per 5 anni ha fatto la battaglia Dicendo che non erano ascoltati Le sufficienze i municipi Adesso magari col fatto Che sono dello stesso colore Del sindaco Magari saranno ascoltati un po' di più Io sono un po' maliziosa Non cominciare subito con le polemiche Era un partito benissimo L'ho fatta io Vabbè certo Però lui chissà Va bene Allora Partiamo da qualcosa Che Galesi conosce molto bene Le case popolari Allora Perché precedentemente Non dico da qui in avanti Però sicuramente precedentemente Aveva le delega la casa Assolutamente In municipio Allora Casa MM Ci hanno portato a Quartogiaro Questo è Beniamino della Torre 5 Questa è la 5 Sì Questo è uno spazio comune Dove Lo vedete adesso È stata forzata la serratura La maniglia Quindi tu puoi entrare E gente entra Perché effettivamente Ci sono tracce di Notti, vite E tanto altro E poi ci sono Varie problematiche Soprattutto in quella torre Legate a un incendio Che c'è stato E che rimane un caltiere Ma da tanto tempo Dicono da troppo tempo In quasi due anni Esatto Nel senso che Non si riesce a risolvere Una situazione che Come vedete È sicuramente problematica Bisogna dire la verità Anzi due verità Una La Torre 1 E la Torre 3 Al nostro sopralluogo Si sono salvate Diciamo così Cioè Ma la 5 È proprio la peggiore No no È vero La 5 è la peggiore Mentre La 5 Era una di quelle Dove gli ascensori Non funzionavano E in realtà Quando sono andato io Funzionavano Grazie al cielo In tutte le tre Torre Funzionavano Devo dire la verità Vaci più spesso Eh vaci più spesso Vai più spesso Sì Mi hanno detto anche i condomini Venga venga Perché così magari funziona tutto Però questa è la situazione Io vorrei capire Cosa Cosa succede In questi casi Cioè Lì si è incendiato Locale Rifiuti Sostanzialmente Esattamente E però Cioè due anni Ha detto Galesi Io ero arrivato a un anno e mezzo Siamo arrivati a due Perché mi avevano detto Un anno e mezzo Ok Sono due anni più o meno Quindi partiranno i pentieri Entro fine l'anno Quindi più o meno sono Ma perché così tanto tempo Il problema vero È stato sulla La questione del codice degli appalti E quindi un appalto specifico Per andare a intervenire Su tutta quella struttura Complice E quindi Non è giustificato sicuramente Il periodo dei covid Che ha rallentato Tutta una serie Di lavorazioni Da parte degli uffici Competenti Sicuramente questa è una mancanza E il tempo È troppo Va troppo Si allunga troppo Utilizzando questi metodi Adesso si stanno cercando Di trovare delle formule Un po' più veloci Per snellire Un po' la burocrazia Che poi è quella Perché non era tanto Un problema di fondi Ma un problema Cioè Rattori i soldi c'erano Però è tutto bloccato Per la solita burocrazia Ma vi faccio un altro esempio Però questi qua ci vivono lì Non da giustificare Ma secondo me Ai piani alti Bisognerebbe trovare Qualche soluzione Noi abbiamo dei cantieri Già appaltati Già affidati alle imprese Adesso con la questione Dell'ecobonus Il 110% Le imprese non hanno Il materiale Non hanno le impalcature I lavori che dovevano iniziare In agosto In alcune scuole In alcuni cantieri Anche di case popolari Sono fermi Perché le aziende Non hanno Fanno faticare Per i materiali E le impalcature Quindi sicuramente Questo qua Se non viene risolto A livelli Un po' più alti Rimane bloccato tutto Risca di rimanere Un sacco di cantieri bloccati Ovviamente Chi ci rimette È la pubblica amministrazione Con fronti privati Certo Quindi quello può essere Un problema Posso chiedere A Domenico Zingaro In regia Di mandare Le immagini degli interni Prima di Jacopino Atradate Perché in realtà Quindi la numero 3 Esatto Perché in realtà Bestetti MM Effettivamente spesso Le problematiche Ed erano anche Quelle di via Fleming In realtà Non solo via Fleming Pastonchi Due Di municipio 7 Ma anche altre Infiltrazioni dai tetti E ascensori Che non funzionano Qui abbiamo raccolto Un po' di Istantanee Diciamo così Di situazioni Abbastanza problematiche In varie zone Del municipio 8 Perché questo è tutto Municipio 8 C'è console Marcello In queste immagini C'è lo stesso Jacopino Atradate Che poi vedremo Questo ad esempio È Beniamino Della Torre Cioè buchi Queste te le hanno mandate I condomini Buchi addirittura Sul soffitto Dell'appartamento Queste cose Effettivamente Alera ha problemi enormi Ad esempio Di abusivismo Di occupazione abusive E tutto Però su questa cosa Molto spesso MM È chiamata in causa Infiltrazioni E ascensori Allora io partirei Innanzitutto Da un dato Che mi piacerebbe Che in questa consigliatura Si evitasse Che è questo Derby MM Aller Che è davvero Stucchevole Inutile Non è una gara Come ha detto Mattenzoli Ma sì Mattenzoli ha detto Sediamoci intorno a un tavolo E vediamo di trovare Una soluzione Comune Allora io spero Che il neossessore A casa del comune di Milano Che è Maran Non utilizzi Questa Delega Per farsi La campagna elettorale Perché insomma È una cosa Abbastanza Credo di dominio pubblico Che lui Stia lì Per un paio d'anni Per poi andare O a Roma Se lo chiameranno Alle elezioni politiche O in regione O in Lombardia Dato che il tema Casa Su regione Lombardia Con la questione Aller È un tema Di primo piano Mi auguro Che l'assessore Maran Non trascini Il comune di Milano In uno scontro Istituzionale perenne Con regione Lombardia Con questa Conflitto All'RMM Perché Le immagini che abbiamo Visto poco fa Dimostrano che Non è vero Che il male è stato D'una parte Il bene è tutto dall'altra Ci sono delle problematiche E criticità In alcuni quartieri Magari più accentuate Che in altri Ma ci sono dei problemi Che vanno affrontati Come? Il tema del bonus 110 Che è stato un tema Sul quale a me sarebbe piaciuto Che le istituzioni tutte Sia la regione Che il comune Utilizzassero Per andare A intervenire In maniera un po' più Come dire Radicale Su alcune situazioni Croniche Purtroppo Non è stata sfruttata Come io avrei Ospicato Poi hanno tutte Le loro buone ragioni Perché hanno detto Che in realtà Han preferito Non fare il passo Più lungo della gamba Quindi seguire Un numero di progetti Di appalti Più contenuto Per poter essere sicuri Di arrivare alla meta E di rispettare i tempi Che il bonus 110 Prevede E quindi Si è un po' persa Un'occasione Abbiamo una seconda occasione Credo l'ultima E irripetibile Perché così Non capiterà Credo più Che è quella del PNR Io spero Che le istituzioni Comunale e regionale Per il patrimonio Di competenza Quindi ALER ed MM Sfruttino Questa occasione Storica Senza precedenti Per andare A mettere le mani In maniera drastica E radicale Su queste situazioni Perché È comune In molti quartieri Della nostra città Più che andare a fare Dei rattoppi Sì bisogna ricostruire Da capo Delle toppe Alcune cose Vanno buttate giù Spesso vanno buttate giù E rifatte da zero O comunque Via quarti Via bolla Ad esempio Per dirmi due Sono proprio i classici Però Siccome tu sei partito Dicendo Non facciamo la guerra Tra le Questa cosa L'aveva detta Sala In campagna elettorale Però lui l'ha detta Poi Mattinzoli L'assessore Alla casa Della regione Lombardia L'ha rilanciata La settimana scorsa Ma ad esempio Tutta Fratelli d'Italia Ha detto Non siamo d'accordo Se anche voi giovani Vi fate portavoce Di cambiare pagina Voltare pagina E lavorare insieme Visto che ci sono Sti soldi che arrivano Se la smettiamo Di fare Dell'ideologia Alla mm Una roba Alla era un'altra E si lavora insieme Per il bene Di tutta questa gente Che abita in quelle case Sarebbe una vittoria Per tutta Milano Dentro Sinistra Chi se ne frega Di principi E devo dire Anche nel Consiglio Comunale Da entrambe le parti Ci sono state Degli ingressi Di giovani Quindi Gli elettori Hanno fatto Un ricambio generazionale Un rinnovamento Della classe politica Più coraggioso Di quanto i partiti Abbiano finto di fare Negli ultimi vent'anni Spero che I miei colleghi I miei coetane Non si facciano trascinare Da queste lotte ideologiche Sono d'accordo Esattamente E guardino La politica E l'amministrazione E con la programmaticità Che i cittadini Ci richiedono Per esempio Partendo dalle case popolari Perché è un tema Che non può essere Né di direzione Né di sinistra Né di regione E poi non è che L'Aler è più cattiva Di MM No Voi dite Peggio l'Aler E loro dicono E' peggio l'MM Assolutamente Abbiamo un'occasione in mano È vero che Sul bonus Il 110% Io concordo Che anche il Comune Non è stato coinvolto In municipi Io me lo ricordo benissimo Anzi tra l'altro E' stato uno dei tanti Che avevo tirato fuori Il tema Adesso non dico di dare Loro la scelta Su quale palazzo Perché poi c'è Tutta la parte tecnica Che non compete a noi Però dare almeno Un indirizzo Ma chiacchierata Quanto meno Sui nostri stabili Poi io credo Che si poteva fare Un azzardo in più Mettendo dei fondi A disposizione in più Nel 110 Quindi Però Adesso Sperando che Insomma Venga anche prorogato Il 110 E si riesca anche Ad attuare Delle semplificazioni Per la pubblica amministrazione Perché ripeto Nella pubblica amministrazione Sicuramente Le aziende Andranno più Verso il privato Che sulla pubblica amministrazione Per una questione Di burocrazia Palti Costi Sicuramente Magari un po' più inferiori A quello del pubblico Quindi su questa cosa qua Il governo deve Metterci le mani Perché se no Un'occasione Veramente persa Sia l'eco bonus 110% E i fondi Che arrivano Dalla comunità europea E quello può essere Un rilancio veramente Di tutta la città Mi spieghi In tre minuti Perché Il civico Di Jacopino Della Torre No scusi Jacopino Della Torre Che poi In tre minuti Da anche su De Predis È in queste condizioni Ne stiamo per vedere Sostanzialmente Abbandonato Ci sono dieci famiglie Che vivono lì dentro Le altre sono state mandate via Alcune con motivazioni Di occupazione abusiva Altre con motivazioni Che poi addirittura Sono andate in tribunale L'hanno vinto loro Piuttosto che Il fatto di essere state mandate via Però la situazione È questa qui E ci sono ancora Dieci famiglie Che vivono lì Perché il civico fantasma Quindi Perché il civico fantasma Non ci vive più nessuno Qua Ci vivono dieci famiglie Ma volevate buttarlo giù O no Questo Perché non Capito come funziona È il nove di De Predis E il sedici di Jacopino La Trata No no Li conosco molto bene Su questi due stabili Sostanzialmente La manutenzione Un po' come quello Che si diceva prima Che si è fatta Un po' fino a ora Però la questione Dei fondi Che si mettono a disposizione Rappezzo ormai È andato al Colabrodo Su questi stabili È già stato votato Nel piano triennale Delle opere pubbliche Con il primo finanziamento Col bilancio Del 2021 Per una riqualificazione Generale Che adesso dovrebbe aggerare Intorno ai 18 milioni Di euro Su tutte e due Adesso poi La tempistica qua Anche qui Però il progetto È rifarlo completamente Quindi Ristrutturarlo completamente Partendo dalle fondamenta Anche perché Su quegli stabili Le cantine Ci sono i bunker Antiaeree Insomma c'è anche un problema Di agibilità Per mettere i ponteggi Le gru Posizionare i cantieri Di stabilità Del sottosuolo Quindi ci sono una serie Di criticità E quindi cosa si sta facendo Non si ristrutturano più Le case vuote Ovviamente Per non assegnare Case fattiscenti Che sono all'esterno Che hanno tutti I problemi Dall'amianto Perché forse Ecco c'è l'amianto Oltre che Le infiltrazioni d'acqua O quant'altro E quindi si cerca Di liberare Ed eventualmente Qua sicuramente Io credo che Bisognerebbe mettere In campo Una mobilità Per gli inquilini Che abitano ancora Lì dentro Perché ci sono Molti anziani Che vivono lì Può chiudere Tutto il palazzo Finché non si parte Con la burocrazia Per la rifiutuzione generale Però è quello che manca Cioè il fatto Di prendere questi Questi anziani Che hanno un cortile In quelle condizioni E dirgli Ok vi diamo Un altro alloggio Quanta gente c'è che abita Guardate lì Quanti sono Sono una decina Di famiglie Forse qualcosa in più Qualcosa in più Ma soprattutto Sono ormai anziani Perché a parte Un paio di occupazioni Abusive E poi li rimedi Il palazzo Lo metti in sicurezza Modale che non viene occupato Anche perché c'è stata Un'occupazione L'altro giorno Su questo sarà uno dei temi Che con l'assessore Maran Che tra l'altro oggi È stato Nonostante Appena insediato E nominato Come assessore alla casa Stamattina eravamo In via Cogne 4 Per un incendio Di un appartamento Che era venuto L'altra sera E quindi Se già reso disponibile È già stato al tavolo Con i municipi Quindi già Credo che almeno Il passo Sia buono Vediamo Va bene Ci fermiamo Ci fermiamo Dopo cosa facciamo Dopo c'è una ciclabile Sotto a casa mia Tra l'altro Vorrei capire Qual è il problema Della ciclabile Adesso te lo dici Perché le ciclabili Le ciclabili sono Come sa bestetti Sono un po' La nostra ossessione Sì però non è una nuova ciclabile Se ogni volta Non parliamo di una ciclabile Non è quella dipinta No comunque Allora vi faccio ridere Perché la nuova assessora Alla mobilità di Milano Che è la Censi L'ho sentita Appena eletta E lei mi ha detto Dammi tempo di ambientare E poi dopo ci vediamo Ho detto Guarda che le ciclabili Sono alla nostra ossessione E lei mi ha risposto Lo so Lo so Ho detto anche la mia Oro da vendere I compro oro Non sono tutti uguali Cashpoint paga subito In contanti Oro Argento Orologi E diamanti Massima quotazione E massima soddisfazione Garantita Cashpoint è a Milano In Viale Zara 115 Aperto tutti i giorni Dalle 9 alle 20 Visita il sito CashpointItalia.it O chiama il 353 4236 495 Ora cento diamanti Scegli i nostri contanti Meglio con Cashpoint For La porta blindata certificata in classe 4 anti-infrazione Non affidare la tua sicurezza a una semplice porta For È la soluzione economica e di alta qualità Sicura Elegante E inattaccabile For È realizzata con le tecniche di ultima generazione Per garantire la massima affidabilità Struttura in acciaio zincato a doppia lamiera Coibentazione interna e doppie guarnizioni perimetrali Per un isolamento termico e acustico ottimale For Serratura interbloccante con doppi cilindri e defender antitrapano Con deviatore di chiusura superiore e inferiore a 4 punti Lato cerniere con ben 4 punti di chiusura Tutta la sicurezza che ti serve al piccolo prezzo di 1450 euro Sì, hai capito bene, 1450 euro Misura, posa, trasporto e IVA sono compresi nel prezzo Ricorda, grazie alla detrazione fiscale in vigore For ti costerà solo la metà Non affidarti più alla tua vecchia porta non certificata Che chiude male e non garantisce la tua sicurezza e quella dei tuoi cari Affidati a For, un prodotto Ferrinox Che da oltre 35 anni costruisce i migliori prodotti per la sicurezza della tua casa Ferrinox, sicurezza della tecnica Tecnica della sicurezza Dottore, ho un piccolo problema che potrebbe diventare più grande Non si preoccupi, ha chiamato il dottore giusto Ho notato il danno al parabrezza Ho chiamato il numero verde E mi hanno fissato subito l'appuntamento nel centro Dr. Glass più vicino a me Hanno effettuato l'intervento di riparazione E in poco tempo mi hanno riconsegnato l'auto Sono stati velocissimi Pensano a tutto loro Anche alle pratiche amministrative Chiama il numero verde 800 10 10 10 O vai su drglass.com Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza EQC, enjoy electric Oggi anche con free lease e noleggio flessibile Mercedes-Benz Scopri EQC su mercedes-benz.it Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus C'è qualcosa di nuovo in città L'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG E la sua gamma di vetture ibride ed elettriche Un vero concentrato di tecnologia ed efficienza Con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euron Cup Affidabilità e sicurezza Ma anche interni spaziosi confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti C'è una MG e HS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita Vieni a scoprirla e a provarla da Fassina In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano Ah, scherzavo No, io ho un conflitto di interessi quando si parla di 15 più 8 Quindi devo stare zitta Allora, ciclabile Andiamo dove è la direttrice Però io ci passo da questa ciclabile Perché è vicino alla piscina di Milano Sport dove vado io Ah, vieni lì nel mio quartiere vicino a casa mia È di dati sensibili C'è la piscina Cantù Questa è la ciclabile che stanno facendo È quella nuova È già fatta Sì, esatto Di via Lessona Stanno costruendo, vedete, le grate Oltre le grate c'è un'area verde dove poi ci sono dei cantieri Esatto Allora, prima cosa che mi hanno segnalato Il fatto che qui praticamente è una ginkana Cioè è una rotonda La ciclabile ti dice Ok, vieni di qua e poi torna di là E molti rimangono un po' sconvolti dall'idea Che ci sia una ciclabile che fa il tondo C'è tutta la viabilità lì che è incasinata Sì, è abbastanza incasinata Da prescindere l'incrocio La ciclabile è un po' Alcuni dicono Insomma Potevano disegnarla un po' meglio rispetto agli incroci Anche perché Adesso questa è la ciclabile vecchia invece di via Lessona Sì, è quella vecchia Che va verso Palizze Il ponte dove c'è l'Esselunga Che poi c'è il ponte che porta in console Marcello E lì sta il problema Galesi Che mi chiedete Ah, non sotto casa Quindi più avanti No, esatto Ok Quella ciclabile lì va bene Sì Va benissimo Qui a parte il fatto che qui c'è un passo carraio e si interrompe Ma quello è giusto Cioè non c'è problema Qui c'è il ponte che arriva in console Marcello Qui c'è la ciclabile Però la ciclabile termina lì Cioè la ciclabile arriva Qui c'è il vialone di console Marcello Dove in teoria i cittadini dicono Sarebbe utile la ciclabile E invece la ciclabile gira e torna in Drio E torna in Drio come direbbero in Veneto E invece arriva gente contromano rispetto alla ciclabile O meglio che va verso questa parte di ciclabile Che però fa console Marcello Eccoli qua O sul marciapiede o addirittura in strada Per poi prendere quella ciclabile Come vedete Questo è il problema Sostanzialmente che segnalava qualcuno Voglio sentire prima Bestetti Intanto Questa è una ciclabile vecchia Non sono quelle di grande dipinte Ma infatti posso dire che si vede Questa si vede molto Perché C'è un asfalto diverso Le ciclabili fatte così Io non ho nulla da obiettare Perché? Perché sono delle ciclabili Che consentono ai ciclisti Di potersi muovere in sicurezza C'è lo spazio ampio dei marciapiedi E c'è la viabilità regolare delle auto Cioè Sono progetti che tengono insieme Le diverse utenze della strada I ciclisti I pedoni Il mezzo pubblico E il mezzo privato dell'automobile Senza che una prevalga sull'altra Senza Prevaricare gli uni sugli altri Senza particolari velletà ideologiche A me piacerebbe che a Milano Anche questo argomento Un po' per creare un po' un filo rouge Rispetto anche alle case popolari di prima La si smettesse di vivere Questa contrapposizione Auto-bici Bici-auto Come se necessariamente Chi va in bici Odiasse le auto O chi avesse un'auto Dovesse per forza odiare le bici Ognuno si deve In questa città Potersi spostare in libertà Ma come libera scelta Non come imposizione E le ciclabili L'ho sempre detto Lo ribadisco Spero che prima o poi Si superi questo incubo Le ciclabili devono essere Una opportunità Cioè ti do una modalità Di circolazione in più Come possibilità Che se vuoi sfruttare Auguri Se non vuoi sfruttarla Pace amen Puoi continuare a girare Con l'automobile Però scusami Però se devi fare una ciclabile Oggettivamente Se non c'è E la vuoi fare Come dici tu Quindi protetta Quindi Che abbia questo tipo Di forma Devi prendere dello spazio Alla Non è detto Alla carregiata Ho fatto l'esempio Ci stavo arrivando Dato che Lo stesso itinerario Di Via Le Monza Tu potevi farlo Nella parallela In cui non hai Alcun tipo di Problema Con la circolazione Non intasi il traffico Non elimini Posti auto Ma garantisci Un'opportunità in più Tu dici Facciamola Non la facciamola lì Esatto Perché non la facciamo lì Quindi Le ciclabili Vanno benissimo Il tema è Farle con un po' Di buonsenso In più E un po' Di ideologia In meno Quindi Fatte come le ho viste A me piacciono Sono una bella opportunità Ti viene in voglia Di farle Perché non stai rompendo Le scatole E ti viene anche più voglia Di andare in bicicletta Se è più sicuro Garantisce a tutti Di muoversi Certo Se invece devi fare A tutti i costi Per una sorta di Furore ideologico Furore ideologico Contro le auto Che quindi Devi eliminare posti auto Restringere le carreggiate Creare traffico Non le capisco E questo è Perché non va In console Marcello? Su quella A parte che probabilmente L'ha fatta chi? No Allora Quella è una Un'altra città Forse Col progetto di Euro Milano Forse nel 2000 Però l'idea di allungarla Non è mai venuta nessuno No Perché? Esattamente Perché è stato collegato Il pezzo Quello nuovo che hai visto Attualmente Che collega Dal parco di Villa Schleiber Al Ponte Palizzi Quindi sostanzialmente Uno che arriva Dalla stazione Di Quartogiaro O all'interno Di Quartogiaro Può collegarsi Arrivando fino al Ponte Palizzi Adesso lì manca Quel tratto Che da Palizzi Collega via Varesina Sì Sostanzialmente E il tratto E il tratto anche Da Via Varesì Da Palizzi A Certosa Per collegare La stazione Certosa Sono gli unici due pezzi Che mancano Per poi riuscire A collegare La pista ciclabile Che poi arriva Fino in fondo A Via Varesina Che poi si collegherà A Corso Sempione Quindi a Pompeo Castelli Non c'è neanche l'idea Di arrivarci Non c'era mai stata No Assolutamente no Perché su Via Varesina C'è l'altra Perché anche quella Aveva avuto una serie Di polemiche Quella di Via Varesina Su quella Ci sono state Alcune polemiche Però tuttora Ci sono macchine Parcheggiate Ci sono tuttora Alcune macchine Che parcheggiano Le vedo io Adesso andranno A mettere i paletti In acciaio Meglio Così la smettere Però è stata molto apprezzata Dagli abitanti La maggior parte Dai Varesiniani Sì Assolutamente Ed è utilizzata Anche molto bene Poi ovviamente Lì dipende Su alcune vie Lì tra Varesina Console Marcello Espinasse L'unica era Via Varesina E' ovvio Che come si accennava prima Bisogna garantire Poi delle metrature Sulle pedoni Sulla pista ciclabile Il posto auto O la carreggiata Quindi a volte Vai a sacrificare qualcosa Però diciamo Che insomma Quelle che sono state Realizzate da noi Non hanno creato Grossi problemi Di viabilità E di posteggi Qualche posteggio Salta Vabbè Quello sempre Salta Non possiamo spostare I palazzi E' vero Che Via Varesina Me lo ricordo Si erano inferociti Ma poi dopo E' piaciuta Soprattutto il tratto Dove è stato Qualche commerciante Qualche commerciante Esattamente Però gli abitanti Che abitano lì Avevano la pista ciclabile E hanno gradito E avevi piantumato Gli alberi Questa cosa Ha cambiato Anche la percezione Della via Sì 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 E' vero Ma andiamo alla fascia Sì perché E sono le 22.16 Facciamo la fascia Devo riportarla all'ordine Direttrice E poi dopo la pubblicità Dove andiamo? Andiamo sempre a Quartogiaro Ma rendila un po' interessante Andiamo a Quartogiaro Perché a Quartogiaro È una delle zone In cui oggettivamente La questione delle discariche abusive È più impattante Dice di nuovo Andiamo in una discarica abusiva Dopo la pubblicità Unica una Più di una Noi siamo diversi Siamo quelli che amano perdersi E non ci interessa Il prossimo episodio A noi non piace stare sul divano Noi guidiamo Nuovo Renault Kangoo Benvenuti a Porto Nuovo Renault Kangoo E fiero di esserlo A ottobre tuo Da 199 euro al mese Alla Mondoflex Siamo pronti Per iniziare Una nuova stagione E voi? Iniziamo insieme Questo percorso Consapevoli Che il riposo Il dormire sano È molto importante Noi siamo qui Per ascoltare Le vostre richieste E per trovare insieme La soluzione Problemi di allergie Montale Memori A cellule aperte Analergico E traspirante Scontato Dal 40 Più il 20 Per cento Problemi di sudorazione Pascoli In memory breath Termoregolante Che mantiene La temperatura Del corpo Scontato Del 40 Per cento E se siete attenti All'ambiente Se volete una linea naturale Pirandello Realizzato con miscele Ricavate da estratti vegetali Scontato Del 30 Per cento E con il primo acquisto Riceverete La carta oro Che vi dà diritto Ad un ulteriore 10 per cento Di sconto Anche sui prezzi Già scontati Scegliete Mondoflex Perché Mondoflex Fa la differenza Vi aspetto C'è qualcosa di nuovo In città L'esperienza del gruppo Fassina Incontra il glorioso Marchio MG E la sua gamma E la sua gamma di vetture Ibride ed elettriche Un vero concentrato Di tecnologia ed efficienza Con 7 anni di garanzia E ben 5 stelle Euron Cup Affidabilità e sicurezza Ma anche interni spaziosi Confortevoli E ricchi di funzionalità Intelligenti C'è una MG EHS plug-in hybrid Adatta ad ogni stile di vita Vieni a scoprirla E a provarla Da Fassina In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano Oro da vendere I compro oro Non sono tutti uguali Cashpoint paga subito In contanti Oro Argento Orologi E diamanti Massima quotazione E massima soddisfazione Garantita Cashpoint è a Milano In via Lezzara 115 Aperto tutti i giorni Dalle 9 alle 20 Visita il sito CashpointItalia.it O chiama il 353 4236 495 Ora 100 diamanti Scegli i nostri contanti Meglio con Cashpoint Allora, allora Dove andiamo? Discariche Discariche Torniamo nelle discariche Discariche Credo un po' di tutti Gli amministratori locali Sì, sì, sì Poi devo dire che in realtà Tra Villa Pizzone Quarto Perché Villa Pizzone? Ecco, Marcello Pompio Castelli Ce ne sono parecchie Ne vediamo alcune Che sono le classiche Spesso di occupazione Ambrose Spesso Di case popolari No, queste no O altrimenti No, queste no Perché non ci sono Le case popolari Questa è via Satta Sono case popolari Riconosco la cancellata La SIEP Questa è via Satta 5 No? Perché l'avevo vista Questa è Sì, vicino Sattta Sì, è vicino Al commissariato di polizia Sì, bravo Esattamente Ho riconosciuto la cancellata Poi ci sono le problematiche Di conferimento Come dire Casuale Esatto Questa è via Le Sione In realtà O giù di lì Via Le Sione Di conferimento casuale Di rifiuti dentro i cestini Sì, ma quello non è solo lì È quello purtroppo No, però Proprio su questo Devo dire un paio di cose Poi arriva quello Che ti deve mettere Bellamente Il divano Il divano fuori Senza il cartello dell'Amsa Perché ma che cartello L'Amsa Che gli frega del cartello dell'Amsa In realtà è tutto gratuito Ribadiamolo Quando tu devi Però quello lì Credo che Sul materasso Credo che era un ritiro Adesso non vorrei dire Quindi l'Amsa Di Amsa Sì Che viene messo Il pomeriggio Anziché la sera Allora quindi No, in realtà Quello lì era già la mattina Il divano Il divano era lì la mattina Poi non so Questi qua Questi qua addirittura Non ce l'immagini Ma la cosa più bella È che questi qua Io sono ripassato dopo Hanno aggiunto il frigorifero Sì, sì C'era tutta la casa Più o meno Anche la cucina Hanno messo Era un trasloco No, ma che tu non hai Cioè può passare uno Che ha bisogno di qualcosa Ma sì Ma poi tu fai Un marciapiede Dici cosa trovo Sul marciapiede Queste robe qua Questo è un ulteriore Conferimento abusivo Però in realtà Parlandoci chiaramente Ci sono delle vie Ad esempio via Grigna Eccole questa Tanto per dirne una Che arriva gente Lascia computer Lascia qualunque cosa Vedremo tra poco Una lavastoviglie Benissimo Che l'hanno lasciata lì Davanti al solito civico Dove lasciano le lavastoviglie Questa è una macchina Che sarà lì dal Credo Dal 1912 Io o meno Carrelli Guardate I carrelli Di supermercati Però in realtà Io vorrei capire Qui Come si combatte Questa cosa A parte culturalmente Dico Galesi Cioè AMSA Passa mille volte Passa mille volte Ma appena passa E' di nuovo così Le fototrappe Ecco Le fototrappe Dicevano anche i condomini Esattamente Ci sono due problemi Una che sono le discariche abusive E che lì nella zona di Quartogiaro Abbiamo già Individuato Insomma E' arrivata la segnalazione Con qualche foto Di questo furgone Che alla una Di notte Gira il quartiere E va a scaricare Bisogna beccarlo Sul fatto Che scarica Però una prima indicazione Dagli abitanti C'è arrivato Quindi Il primo messaggio Che laddove Qualunque tipo di cittadino Dovesse vedere Chi scarica abusivamente Denunci Lo denunci Perché sennò Questo fenomeno Non E' implacabile Perché questo furgone Gira Ogni giorno Ogni sera Cambia una via E anche se metti La fototrappola Forse lo riesci a beccare Io ho la sensazione Che non sia lo stesso In un angolo Sicuramente sono più di uno Quindi sono tutti Magari Gente che fa Dei lavori improprio Ritira E fa lo sgombro Ma serire Poi anziché andare A vuotare E pagare Il formulario Dove trova Va a scaricare Quindi Quello è il primo problema E poi c'è l'altro problema Invece Che a livello Culturale E a livello Anche informativo E cambiare Anche la tipologia Dei cestini Ecco E che forse è quello Su cui voleva intervenire Tutto Perché Questi cestini Sostanzialmente Sono Da Da stimolo Da buttare lì Il sacco Di casa E poi credo Che bisogna fare Un altro lavoro Che questo credo Cioè farli più piccoli Farli più piccoli O comunque Con dei buchi In modo tale Che tu non possa Mettere dentro Il sacchetto Sicuramente Lo appoggeranno accanto Non credo Che chi è maledicato Si faccia scrupolo Di riportarselo indietro Il sacchetto della spesa Però il lavoro Che c'è da fare Sicuramente È con gli amministratori Di condominio E con i commercianti Quindi togliere questi Tu dici Dove uno Viene voglia Di buttare Vanno cambiati Proprio la tipologia Va dato un altro Ok sentiamo Bestetti Quella di No no È esattamente La stessa cosa Ma che tipologia Sceglieresti Ma ce ne sono Un milione Di tipologie diverse Aggiungo Non solo Che questi Allora Nel solito Perché siamo arrivati A Milano A mettere questi guidi Che sono sempre stati così Perché nell'ottica Del risparmio Il volume Di raccolto Di questi cestoni Che sono più grandi Dei cestini È Non so se è esattamente Il doppio Comunque più grande Dei cestini 110 litri Questo Esatto Dei cestini tradizionali Quindi hanno potuto Diminuire il numero A parità di volume E girare di meno Per andare a svuotare I cestini Ora Dato che però Questi Basta guardarli Si prestano molto A questo fenomeno E abbiamo notato Invece che Laddove non ci sono Questi cestoni Il fenomeno Si riduce molto Aggiungo anche Che c'è un fenomeno Soprattutto nei parchi Di inciviltà degli umani Ma anche di Banalmente Uccelli o cornacchie Che vanno dentro A beccare Quindi metteresti quella Con la copertura Piccoli con la copertura Più piccoli O anche magari Di queste dimensioni Ma con una copertura Che da un lato Eviti che l'uccello Vada dentro A tirar fuori E dall'altro Che la gente Non faccia la differenziata E porti di tutto Ma perché Perché No ma c'è anche Chi fa la differenziata La butta nel cestino A me è capitato Di trovare il sacchetto Dell'umido dentro Vabbè Quelle folle No aspetta però Però c'è Il cestone così aperto Magari anche chi Non lo lascerebbe mai Sul marciapiede Ma determina questo problema Perché quei cestoni lì Se tu li metti dentro Due, tre Sacchetti voluminosi L'hai riempito L'hai riempito Quello lì dovrebbe essere Un cestino Da strada In cui tu butti La bottiglietta La sigaretta Il pacchetto La deiezione canina La deiezione canina Se invece lo riempi In tempi rapidissimi Perché se la mattina Sono in tre Che lo buttano L'hanno già riempito Amsa non ce la fa Oggettivamente A star dietro a tutto Perché dovrebbe svuotarli Ogni due ore E non è sostenibile Ma io quante volte Ho chiamato l'Amsa Perché vicino a casa mia E non traboccavano A parte che poi Un'ultima cosa Adesso questo non si vede Ma ce ne sono in città A centinaia così La base di questi cestoni Si arrugginisce È conciata malissimo Sono bruttissimi da vedere E questi li paga Il comune o i municipi? No, no Il comune Questo è A livello centrale È un tema Che tu devi fare con Amsa Certo Io ho passato In questi cinque anni A chiedere La rimozione Non la rimozione Scusate La sostituzione Di E non ti hanno mai dato No, no Devo dire che L'hanno fatto Però anche qui Servirebbe che il comune Desse delle indicazioni Al personale di Amsa Che fa lo svuotamento Dei sacchi Cioè come vedo io Il cestino marcio Passando per una strada Non è possibile Che l'operatore Che ogni giorno Svuota quel cestino Non si accorga Che c'è una base Che è arrugginita Marcia Il problema della base Arrugginita E poi il problema Che è troppo grande E troppo ampio Il buco di ingresso Ma dipende anche Dalla tipologia del cestone Perché i cestini sospesi Non si arrugginiscono Perché non tirano su Dal terreno L'umidità E quindi Quando piove Il cestino Posato Posato per terra L'acqua Prima te lo porti a spasso Dove vuoi Alcuni nei parchi Li spostano E ti ritrovi Da tutte le parti Arrugginiscono E poi con questa tipologia Facilitano Il conferimento erroneo Dei rifiuti Ci sono altre soluzioni Che un tempo A Milano Venivano usate Che sono state abbandonate Per risparmiare Ma poi alla fine Per risparmiare Paghi di più Perché sei costretto A far uscire Amsa più volte E poi in ogni caso Crei dei piccoli punti Di degrado Di schifo E poi è chiaro Che il solito Degrado Chiama degrado Se c'è uno Che dice Su una questione Di cestone Credo che nei municipi Siamo quasi tutti d'accordo E allora Speriamo che questa nuova consigliatura È un problema generale Su tutta la città Adesso non riguarda Anche in centro Quindi voglio dire Anche in centro Scendono giù Con il sacchetto Di casa Della spazzatura E lo buttano giù Però io credo Soprattutto Che bisogna fare anche un lavoro Con gli amministratori Di condominio Come comunicazione Perché io Allora lo diremo Al nostro amministratore Per chi nel mio condominio Scendeva giù Con il proprio sacchetto Quindi secondo me Bisogna mettere Un po' Lo diremo Al nostro amministratore Di condominio Che risponde Alle domande Dei telespettatori Tutti martedì A Metropolis Alle 14 Scusa Anche questa cosa qui Degli amministratori Io la butto lì Perché voi siete In maggioranza No ma Io ho avuto L'esigenza Più volte Da presidente Di municipio Di dover comunicare A Una serie Di condomini Di una via Un qualcosa L'avvio dei lavori Piuttosto che La riqualificazione Non esiste Mi hanno detto Non credo che mi abbiano preso In giro Ma non esiste Nel comune di Milano Una sorta di Albo Albo O di stradario Chiamiamolo così Al giornato Che ti dica Se io voglio scrivere A tutti gli amministratori Di condominio Della via Mario Rossi Non esiste Un registro In cui Io so Bisognerebbe andare Fisicamente Casa per casa Guardare gli amministratori Segnarsi Le scrivere Anche questo Avvicinerebbe Credo L'istituzione Ai cittadini Perché o mando La lettera A tutti I condomini No certo Lo diciamo a visca Banalmente Basta una mail Io mando una mail L'amministratore Poi l'amministratore La dirama Sui suoi condomini E io A costo zero Per l'amministrazione Comunico Prossime asfaltature E l'amministratore Lo comunica Ai condominini Questa roba non c'è E questo è un esempio Di decentramento Certo Forse può essere Quello che dice Bassetti Perché su un lavoro pubblico Su delle grate Da sostituire In uno stabile L'ufficio Mi ha chiesto Se riuscivo A prendere il numero Dell'amministratore Ma con la targhetta Era andato A fargli la foto Alla targhetta Può essere Che è un metodo Abbastanza rudimentale È quello che facciamo noi L'abbiamo sempre fatto Non abbiamo mai detto No per risolvere il problema Adesso abbiamo una storia personale Da raccontare Sì ma dobbiamo fermarci prima Sì infatti Ma dopo la pubblicità Dopo la pubblicità Una storia Una storia personale E di mala burocrazia E ve la raccontiamo Sperando anche che voi due Possiate aiutare In qualche modo Il soggetto Vittima di questa storia personale Dopo la pubblicità Alla Mondoflex Siamo pronti Per iniziare Una nuova stagione E voi Iniziamo insieme Questo percorso Consapevoli Che il riposo Il dormire sano È molto importante Noi siamo qui Per ascoltare Le vostre richieste E per trovare insieme La soluzione Problemi di allergie 30% E con il primo acquisto Riceverete la carta oro Elegante 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 Confortevole Certificato in classe 3 Anti-effrazione È sicuro Con una costruzione geniale E rivoluzionaria Con ampi spazi Fra le ante Il telaio Dove è praticamente Impossibile Ogni tipo di effrazione Con leve o piede di porco Con serratura A doppio pistone Avente corsa 35 mm E 18 mm Di diametro Antitaglio Con cerniera Scomparsa Completamente incassata Nell'anta E nel telaio Perimetrale Cosnodo brevettato Incassato nel telaio Per una maggiore Sicurezza Ed eleganza Ineguagliabile È elegante Realizzato con un design Semplice E piacevole Non ostacola eccessivamente Il passaggio di luce Oltre alla massima Sicurezza E resistenza Dona anche eleganza Alla vostra casa È confortevole Grazie alla zanzariera Integrata In uno spazio ridotto Di soli 70 mm Aumenterà il comfort Della vostra casa Difendendovi anche Da insetti E zanzare Ad un prezzo Sbalorditivo Pari a quello Di un comune Cancelletto Privo di certificazione E garanzia Con Eco 3 Top La sicurezza Per la vostra casa Non è più un lusso Contattateci per informazioni Per un preventivo Gratuito O venite a trovarci Nei nostri showroom Con Ferrinox La sicurezza È di casa Oro da vendere I compro oro Non sono tutti uguali Cashpoint Paga subito In contanti Oro Argento Orologi E diamanti Massima quotazione E massima soddisfazione Garantita Cashpoint A Milano In via Le Zara 115 Aperto tutti i giorni Dalle 9 alle 20 Visita il sito Cashpoint Italia O chiama il 353-4236-495 Ora 100 diamanti Scegli i nostri contanti Scegli i nostri contanti Meglio con Cashpoint Nonna Io e te insieme Facciamo delle pizze fantastiche E buonissime E ti voglio un sacco di bene Quindi ti dico Che se qualche cattivo ti imbroglia Non devi vergognarti Può capitare a tutti Diciamola a mamma e papà E chiamiamo il 112 Non è vero che non serva nulla Dai retta a Davide Quando la truffa si fa viva Tu fregala Denuncia immediatamente Al 112 Condividere la tua storia Ti aiuta a superare l'accaduto E a ritrovare la serenità Scopri di più sul sito Regione.lombardia.it Kimoto Vendita e assistenza moto A Paderno Dugnano Kimoto Concessionario ufficiale Aprilia Moto Guzzi Fantic Motor E Malaguti Eccellenze italiane Per soddisfare la tua voglia di moto E per la mobilità urbana Da Kimoto Trovi l'intera gamma scooter Piaggio Vespa Niu Novità 100% Elettrica Promozioni Offerte Per moto usato Finanziamenti personalizzati Officine Magazzino ricambi Sono solo alcuni esempi Dei servizi Che trovi da Kimoto Kimoto Da oltre 30 anni E passione per le due ruote Ti aspetto Allora La storia di Leo Vittima della burocrazia Sì Leo è un bambino Di 4 anni Che frequenta il secondo anno Della materna Ha L'osteogenesi imperfetta Che è una malattia Le ossa di cristallo Nel senso Lui qualunque colpo prenda Qualunque situazione Difficile Accada Ha delle fratture Gravi Lui ha addirittura Nei due femori Due Viti telescopiche Quindi è una situazione Cammina a malapena Sta cominciando a provare A camminare Però Giustamente È andato a scuola Andando a scuola È capitato Che in più di un'occasione Purtroppo Siano capitate Situazioni In cui si è fatto male Per fortuna Mai In maniera gravissima Si è rotto le ossa Ma non Non si sono stortate Le viti telescopiche Nel femore Per cui è andata Tra virgolette Quasi bene Da un certo punto di vista Il problema È che giustamente La mamma dice Io avevo visto Questa scuola Avevo identificato Questa scuola Come una scuola Che poteva servire Poteva essere utile Perché aveva gli spazi giusti Poi Arriva il covid Arriva tutto quanto Mi avevano garantito Che mio figlio Proprio per le sue problematiche fisiche Non sarebbe finito In uno di quei Container Diciamo così Di quei prefabbricati Che con il covid Sono stati utilizzati Per ricavare spazi Per il distanziamento Invece alla fine Lui è ricaduto lì Si è fatto male Una, due volte Lei dice Io non mi sento più sicura A mandarlo a scuola A mandarlo a scuola Mio figlio lì Hanno trovato Una soluzione diversa Hanno identificato Una scuola Perché una mamma Che ha avuto un bambino Con lo stesso tipo di patologia È quasi una fortuna Molto Tra virgolette Averlo trovato Ha detto Io sono andata In questa scuola Mi sono trovata bene È successo solo un episodio In tanti anni Allora lei ha detto Va bene Allora preferirei andare In quella scuola lì Problematica è Che quella È una scuola Comunale Quella dove invece va Adesso è una scuola Statale Graduatorie diverse Non può spostare il figlio Lei Sentiamo che cosa chiede L'avete già capito Cioè Un minimo di elasticità Rispetto a questa cosa Per fare passare il bambino Da una scuola all'altra Visto che non ci sono più Le graduatorie tardive Che di solito c'erano a settembre Le hanno detto Avresti dovuto chiederlo a gennaio Ma se mi avete detto Che non lo mettevate nel container Perché avrei dovuto chiedervelo Anche perché lui stava benissimo In quella scuola Con i suoi compagni Lui si chiama Leo E questa è sua mamma E sentiamo che cosa chiede L'abbiamo più o meno già capito Ma lo facciamo dire a lei Allora io chiedo solo Al comune di Milano Al sindaco A chi può Di trovare una scuola sicura Per mio figlio Che quest'anno Non sta frequentando Nessuna scuola Perché la scuola dove è attualmente iscritto Non è sicura In realtà c'è già una scuola Che avete più o meno individuato Su cui potrebbe ricadere Leo Andando a iscriversi La problematica a questo punto È meramente burocratica Da quello che hai capito Assolutamente sì Il problema è che Da una scuola statale A una scuola comunale Il bambino non può essere spostato Perché ci sono diversi graduatori Allora faccia un appello Al sindaco a questo punto Visto che è lui Quello che più facilmente Potrebbe probabilmente risolvere la cosa Sindaco la prego Mi aiuti a cercare una scuola sicura Per mio figlio Leonardo Grazie Potete portare voi questa richiesta? Ma mi sembra una cosa di assoluto buon senso Non ho capito se sta ora in una statale Andare in una comunale o viceversa? È in una statale Che vuole andare in una comunale Quella che ha identificato come scuola sicura È una comunale E essendo graduatorie diverse Avrebbe dovuto fare richiesta precedente Non c'è la tardiva Come c'era gli anni precedenti Non so perché sia sparita la La deroga la può fare il sindaco Chi è che deve intervenire? In realtà Da quello che abbiamo provato a capire Se il sindaco Magari anche con La nuova presidente di municipio Che si fa portavoce Della situazione Visto che è residente Nel municipio 8 Leonardo Con sua mamma In teoria Come tutte le cose burocratiche Si può bypassare Se si ha voglia di farlo È ovvio che è complicato Però si può fare Invece così Loro dicono Secondo me il problema è che tu dici Tanto Aspetti aspetti Questo perde un anno Poi tanto a febbraio Gennaio febbraio Devono fare le iscrizioni Le graduatorie nuove Lei si iscrive Però ha perso un anno Ma già il bambino ha dei problemi Ci facciamo perdere pure l'anno Rimanere in casa così L'anno senza i suoi amici E tutto Non è bello Potete fare interessanti Ma assolutamente La Presidente Giulia Pelucchi Si sta già informando Stiamo cercando anche di capire Com'è il meccanismo Un po' burocratico E anche il Consiglio Comunale Lo diciamo anche a bestetti Dall'Università Sicuramente Credo che sia impossibile Adesso lo dico qua Senza saperne leggere Ne scrivere E conoscendo bene Come funziona Questo tema Tra statale Comunale E poter cambiare E roba del genere Ma oggettivamente Credo che ci sia Una questione oggettiva Cioè nel senso Che non è un capriccio Non è una raccomandazione È un'esigenza Dovuta Assolutamente Infatti Quello che intendevo C'è un'esigenza reale L'impegno sicuramente Che la Presidente Giulia Pelucchi Tra l'altro Ha seguito sempre Questo tema della scuola E quindi anche molto sensibile È di capire Almeno noi come municipio Come attivarci domani mattina Per far sì Che almeno Il ragazzo Possa frequentare la scuola Essere supportato Magari anche Con delle associazioni Con degli enti Che seguono anche La Qui ce l'ha L'insegnante di sostegno La patologia del bambino In modo tale Che almeno Questo periodo Che non venga abbandonato Che non rimanga a casa Cioè lui non è che è stato Cacciato dalla scuola Chiarisco per evitare No no È la mamma Che non se la sente più Assolutamente Perché sono successe Terminate cose Ma ha ragione La mamma E che oggi Sta in un container Di fatto Al momento Sta in un prefabbricato La sua classe E questo E quindi la madre Non lo vuole mandare In questo contesto Quindi Bestetti Anche tu No no Se già La giunta Del municipio Otto Se ne sta occupando Se fosse necessario Anche interloquire Con le direzioni Educazione Del comune di Milano Lavoriamoci assieme Senza problemi Io adesso Oggi è venerdì sera Quindi però Lunedì mattina Io magari chiamerò La Giulia Assolutamente Credo che Per coordinare Assolutamente sì Che è un problema Che si deve Publicità Facciamo l'altra cosa Ma io faccio vedere Al volo solo una cosa Visto che si parlava Di scuola E chiedo proprio Una battuta flash Perché non è l'unica Magreglio Esatto Questa è via Magreglio Ce n'è un'altra Credo in via Brocchi Come si chiama Bra Qui vedete subito Qui c'è un'area Una scuola Che va rifatta Che deve essere rifatta C'è un cantiere Già aperto C'è un cantiere Che ha quelle scadenze lì Cioè 6 dicembre 2019 Che giorno è oggi? Due anni Sono passati quasi Benissimo La situazione è questa qui Credo che ci siamo Mi è stato detto Che forse ci siamo Esattamente Mi dica lei Che ci siamo Perché due anni Mi pare che sia una roba Senza senso Lì abbiamo avuto Dei problemi sostanziali Sull'inquinamento Del terreno E sui carotaggi Che erano stati Errati Adesso stiamo aspettando Le ultime analisi Di Arpa E Asle Sugli ultimi prelievi Che hanno fatto Con il nuovo piano Di bonifica Che ovviamente Ha raddoppiato i costi Anche perché Il problema Erano queste cisterne Che hanno sversato Gasolio Nel sottosuolo E questo ha rallentato Tutto l'iter C'è un altro dato Che io ho visto Guardando il cartello Che mi fa molto preoccupare Che è molto diffuso E che è il ribasso Cioè la gara d'appalto È stata assegnata Con un ribasso 43% Quello però è una roba Di tutti i cartelli O quasi No no Appunto Però Questo Determina un problema Perché quando Una gara d'appalto Viene assegnata Con un ribasso Così sostanzioso Che è anomalo Da codice D'appalto Un ribasso anomalo Per quanto tu faccia Le verifiche Che devi fare solo Sul tema del pagamento Dei lavoratori Corretto pagamento Degli stipendi Dei lavoratori Che tu non stai Prendendo in nero Nessuno Ma la qualità Del lavoro Scusatemi Adesso a meno che Arrivi San Francesco A fare i lavori Ma di San Francesco Ne ho conosciuto uno E poi non ne ho visti Molti altri Però quando tu assegni Un lavoro pubblico Con un ribasso Del 42% Sì la qualità Poi chiaramente non c'è Ma è evidente Che è lo stesso problema Che abbiamo avuto E lo confermarà Benissimo Fabio Sulla manutenzione Di tutta la città Del verde La manutenzione Del verde In questi anni È stata assegnata Con un ribasso Del 38% Sulla base D'asta E ha determinato Una scarsissima qualità Del lavoro manutentivo Che vedi tutti i santi giorni Noi L'ho fatto io Ma sicuramente Lo facevano anche loro Passavamo le nostre giornate La metà del tempo A rincorrere L'impresa Per far correggere Tagliare l'erba Far correggere E questo perché Quando tu fai I ribassi così importanti Alla fine Hai lavori Di pessima qualità E quindi Io l'appello che faccio Ne ho parlato molto In campagna elettorale Ne parlerò molto In consiglio comunale Spero di non Darle parlare troppo Perché vuol dire Che non mi ascolto Certo Spero davvero Che questa città Superi Il meccanismo Della ricerca Del risparmio Perché Ha la furia di risparmiare Poi paghi Di più Che non è una sola cosa Solo di Milano Tante situazioni Certo Tante situazioni Di scuole Spero che non sia Anche quel caso In cui fai il lavoro Spendi dei bei soldi E poi magari Dopo un anno Hai ancora perdite Come se nulla Fosse successo Di acqua Infiltrazioni Perché Lavori sono stati fatti Magari Per cui spero Che non sia questo caso Però in ogni caso Arribasso al 42% Vuol dire che da qualche parte Risparmio c'è O il comune di Milano Ha sbagliato completamente Eh sì sì Sennò risparmio da qualche parte La base d'asta Oppure c'è qualcosa Che non funziona Ecco Quindi questi cartelli qua Mi preoccupano Oltre per la lunghezza Certo Del cantiere O il ritardo Mi preoccupano molto Quando vedo questi ribassi Va bene Ci fermiamo E poi andiamo In via Mambretti Andiamo in via Mambretti Perché qui siamo Perché non si sa Cosa voi umani vedrete Io sono solo un uomo Un uomo che ama la sua famiglia I suoi affetti Il suo lavoro Un uomo nato e cresciuto Tra questi colori E che solo qui Ha voluto restassero salde Le sue radici Perché per me Peschiera Borromeo È proprio questo È famiglia Affetto È casa È la passione per le persone È il desiderio di costruire Un cambiamento Ed io ci credo Perché se io sono solo un uomo Noi assieme Siamo peschiera Ducati Milano Gli specialisti delle due ruote Da oltre 20 anni Siamo concessionari esclusivi Per la città di Milano E provincia Da noi troverai Un salone di moto nuove Con tutta la gamma In esposizione Un vasto salone Di moto usate Un reparto abbigliamento E di accessori Ed un'officina tecnica Specializzata E poi Tanta tanta passione Ti aspettiamo Hai necessità di rinnovare Il certificato di prevenzione incendi Del tuo capannone Della tua rimessa privata O condominiale La River Spray È un'azienda specializzata Nella stesura di vernici Intumescenti E in tonaci ignifughi In ambito edile E industriale Proponiamo soluzioni Certificate Su qualsiasi supporto Come legno Acciaio E cemento armato Fino a 240 minuti Di resistenza al fuoco Eseguiamo preventivi E sopralluoghi gratuiti Anche il sabato River Spray La tua protezione Contro il fuoco Vamag Tecniche di collaudo Presenta One Stop Questo sistema Di ispezione rapido E di facile utilizzo Può effettuare Un'ispezione completa Del veicolo In meno di due minuti Il sistema Raccoglie informazioni preziose Sull'allineamento Di un veicolo Le prestazioni Dei freni E delle sospensioni Lo stato della batteria La diagnosi Della centralina Lo stato dei pneumatici E altro Apprendo nuove opportunità Di guadagno Per la tua officina E migliorando La fidelizzazione Dei tuoi clienti Vamag Realizza anche La più completa gamma Di banchi prova A rulli Presente sul mercato Frutto di ben 35 anni Di esperienza Vamag Dal 1981 European quality Made in Italy Kimoto Kimoto Vendita e assistenza moto A Paderno Dugnano Kimoto Concessionario ufficiale Aprilia Moto Guzzi Fantic Motor E Malaguti Eccellenze italiane Per soddisfare La tua voglia di moto E per la mobilità urbana Da Kimoto Trovi l'intera gamma scooter Piaggio Vespa Niu Novità 100% Elettrica Promozioni Offerte Per moto usato Finanziamenti personalizzati Officine Magazzino ricambi Sono solo alcuni esempi Dei servizi Che trovi da Kimoto Kimoto da oltre 30 anni E passione per le due ruote Ti aspetto No Allora Andiamo in via Mambretti A vedere cosa In via Mambretti C'è Ricapitolando Siamo già stati 3-4 volte C'è questo centro D'accoglienza Insomma A noi piace Seguire le cose Come si evolvono Tu e l'operatore Collassano Un paio di strutture Particolarmente Come dire Che provocano Questo tipo di fenomeni Che diciamo così È relativo Come Come impatto Anche se ovviamente c'è Questa è una siepe Su via Aldini Credo Sì Sì Aldini Mambretti In cui Buttano di tutto E sono Semplicemente Le persone Che gravitano attorno A questo centro D'accoglienza Che però Poi va a finire Che escono dal centro D'accoglienza E dormono Sotto questo Sottopasso O comunque Ce ne sono altre Che vanno lì A dormire Sotto il sottopasso Di via Stephenson Questo è Che è esattamente lì In via Mambretti Devo dire la verità Siamo passati lì Due anni fa Siamo passati lì Un anno fa È una concessione Io l'ho visto Peggiorato Nel senso che Francamente Sono di più Sono molesti Ah Peggiorata Anche a livello Anche di urno Cioè Anche di giorno Sono Non esattamente Come dire Trattabili Mamma mia Questa è Come vedete La situazione Su questa mensola Che si è creata Dove mettono Tutti loro Le loro poche Cose Insieme ai materassi Ce ne erano Molte meno E lo vedremo Un anno fa Di questi Chiamiamoli Zain Chiamiamoli Borse Chiamiamoli Averi Di queste Di queste persone Che dormono lì Galesi C'è la gente Che non ce la fa più Questo è un anno fa Non ce la fa più Si sente insicura E si sente Particolarmente Vessata Dalle situazioni Che si creano Anche perché Purtroppo Vivono Bisogna essere onesti Spesso Sono altici E quindi fanno Non faccio sconti A nessuno Quello che è giusto È giusto E lì siamo intervenuti Circa un annetto Fa Voglio dire una cosa Io sui centri Che poi sono gestiti Da una fondazione Quando c'era Serviva Di alzare la voce Sbattere i pugni L'ho fatto tranquillamente Se non vi ricordate male Quando Un ex assessore Che tra l'altro Era la nostra giunta Aveva chiuso All'oggi e domani Il piano antifreddo Lasciando fuori 70 persone Io ero uscito pubblicamente Arrabbiandomi Su questa cosa Quindi sono uno Che sconti Non ne fa nessuno Neanche in casa Perché quello che è giusto È giusto Lì siamo intervenuti E purtroppo È un problema Che devono monitorare Io continuo a ripetere Gli uffici completenti Che sono Le politiche sociali E anche la polizia Quella locale Attraverso le unità mobili Anche perché Sulla gente che dorme Sia nel tunnel Sotterraneo Che nelle uscite Di sicurezza Esattamente È tutta gente Che gravita Che non trova O non vuole un posto Quando arrivano Agli hub Di stazione centrale E gli vengono indicati Vai in Vialdini In via Vambretti Che lì ti fanno entrare Ovviamente Quelli del centro Se tu non sei registrato E devono fare l'accoglienza Raffrontato L'ultimo degli atti Da Presidente Che ho fatto Nel mio territorio È stata una situazione Analoga In via Zendrini Dove tra l'altro Era ancora più delicato Perché era un centro Di accoglienza Per minori Stranieri Non accompagnati Quindi si parla di ragazzini Da soli Minorenni Che dovevano Venivano indirizzati lì Dalle strutture Del comune di Milano Come centro Di Ricollocamento Che però Non aveva La possibilità Né di accoglierli Al suo interno Né di mandare In altre strutture Che erano Completamente Sature Non potendo indicare Un punto di accoglienza Di destinazione Questi ragazzi Rimanevano Poveracci Al caldo Era il periodo estivo All'aperto Nel parco Generando Sia situazioni Evidentemente Di degrado Era un area giochi Un parco giochi Figuratevi i bambini Come potevano giocare In quelle condizioni Sono stati anche L'episodio di violenza Nei confronti Dei residenti E in più Questi ragazzi Minori stranieri Non accompagnati Dormivano per terra In condizioni Davvero Disumane Siamo intervenuti In maniera Molto energica Per trovare Una soluzione Che grazie a Dio Si è trovata Per il bene Di tutti Però il problema È a monte Cioè quando si Fanno le gare D'appalto Per affidare La gestione Di questi centri Attribuendo Ai gestori Una certa serie Di attività Che non sono idonee Magari O per la struttura O per il quartiere O Come dire Togliendo anche Al gestore Qualsiasi responsabilità Su ciò che accade Al di fuori Dell'uscio Evidentemente Queste situazioni Poi vanno A incancrenirsi Serve fare un lavoro Innanzitutto Un po' A monte Come dicevo Giustamente Fabio Cioè non è tollerabile Che Si sia lasciato Il messaggio Che Milano Accoglie 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 Ma poi Non siamo in grado Di fornire Delle condizioni Adeguate Di accoglienza Va benissimo Accogliere Ma è nel limite Dell'accoglienza Se io dico Accolgo I poveri Della terra A casa mia Io riesco Sputarne Due o tre Tanto non ci stanno Poi tutti Non ce la faccio Quindi devo tenerli In cantina Nel garage Ed evidente È un problema Anche per loro Quindi primo tema Cerchiamo di essere Ragionevoli Su quante persone Riusciamo ad accoglierle E come Riusciamo ad accoglierle Due Quando facciamo Le gare d'appalto Per individuare I gestori Cerchiamo anche Di prevedere Un raggio Di Come dire L'incidenza Di queste Cooperative Un po' più ampio Perché se la cooperativa Si interessa solo Di quello che accade Entro la recinzione E non quello che accade Un metro dopo E viene generato Evidentemente Alle persone del centro Succedono queste cose Quindi o supplisci Con la polizia locale Ma senza Gira Cattorno Cioè vanno controllate Meglio queste cooperative Sì ma senza Gira Cattorno La polizia locale Non ha il personale Oggi per farlo Non è in grado Di farlo Oppure tu devi Necessariamente Obbligare il gestore A dotarsi Di un servizio Di Con Vigilanza Ecco Proprio Che in un raggio Attorno Verifichi Che non accadono Queste cose Che sono Non solo degradanti Per i milanesi Ma sono inaccettabili Anche per questi poveri Cristi Sì poi per quelli Per quelli che vengono Che hanno bisogno Abbiamo due minuti Per vedere l'ultima cosa Sì Tanto è abbastanza veloce Pompeo Castelli E Villa Pizzone Console Marcello Siamo a Villa Pizzone Succede questo Di notte Ci sono soprattutto Sudamericani No Sono sudamericani Che vanno a bere Sudamericani Che vanno a bere In giro Stanno lì Stazionano lì Ci sono varie zone Da Piazza Prealpi Anzi no Piazza Pompeo Castelli Più che Piazza Prealpi A Console Marcello Qui siamo in Console Marcello Poi di notte Quando sono Abbastanza brilli Ultimamente E non solo ultimamente Da qualche mese Diciamo così Si verificano vandalismi Che i cittadini Residenti Come dire Imputano A questo A questo modo Di vivere In maniera un po' Scucita Sdrucita Le notti Da parte di queste Di queste comitive Cioè Motorini buttati per terra Danneggiamenti A qualcuno Ha dato addirittura Fuoco a un dehors Di una pizzeria Di un bar Non so All'inizio Di Pompeo Castelli Di Console Marcello Chiedono un po' Più di Come dire Sicurezza Chiedono Che intervengano Di più le forze Dell'ordine Galesi Chiedono Che ci sia Un po' Di vigilanza In più Visto che si sa Benissimo Dove c'è Questo Assembramento Chiamiamolo Per quello che è Perché anche Quello assembramento Alcolico Diciamo così Piuttosto che Di Covid Assolutamente Allora su quella zona Negli anni abbiamo operato Lì se vi ricordate C'era il problema Del parco Testori Sì Siamo riuscito a risolverlo Negli anni Poi c'è stato un simile problema Sul parco di Via Cretese Che lì vicino Sì Che la sicurezza Come abbiamo fatto Gli anni pre-Covid Degli incontri Puntuali Quindi io spero Che il prefetto Il questore Su questi temi Siano molto sensibili Che si facciano Degli incontri Sul territorio Convolgendo Le realtà I cittadini E quant'altro Per poter esporre Queste situazioni Dove il commissariato Abbia Delle segnalazioni Puntuali Precise Dei contatti Anche diretti Sul territorio Io credo che Questa Gli ultimi vandalismi Sono arrivate denunce Perché so che Sono arrivate denunce Adesso bisogna Che effettivamente Si vadano a prendere Le camere della farmacia C'è il commissariato Esattamente Diciamo che poi Anche lì Ultimamente Le forze dell'ordine Tra la polizia Carabinieri C'è poco C'è sempre questo Eh ma questa è una storia Troppo vecchia No però Pre-Covid Devo essere sincero Almeno Sembrava Su quella parte Del municipio 8 Quindi da Prealpi A Quartogiaro Stava funzionando Poi è nato il Covid I servizi sono cambiati E quant'altro Comunque Si è perso un po' le file Sono cambiati i vari Commissari delle stazioni Dai carabinieri Quindi bisogna ricominciare da capo Bisogna riannodare E ridare un po' il filo Io spero che il prefetto Il questore su questa cosa Adesso dovrebbero arrivare 500 vigili nuovi No Quindi anche questo Adesso voglio Vedere cosa vuol dire No perché Sala Aveva garantito L'assunzione di 500 vigili No Sì sì Sono state fatte anche Delle assunzioni Ovviamente non sono Però aveva promesso Altri 500 Aveva promesso No sono altri 500 Vigili Però gli ultimi Ad esempio Che nel nostro comando Sono arrivati nel municipio 8 Che sono 6 Non sono tantissimi Perché poi No però io mi aspetto Non sono nel municipio 7 Quest'anno Si è arrivata qualche forza nuova Ma da noi sono circa 6 o 7 ragazzi Da voi sono arrivati? No no Io ho Diciamo monitorato L'andamento È stato un continuo Voi ne avessi Che sono stati privilegiati Sette nuovi Più o meno No qui no Ma però Una cosa rapidissima Sì perché siamo 30 secondi Questo tema È un tema Che va affrontato Con grande determinazione Ed energia Perché c'è La percezione Da parte di alcune comunità Che questa città Sia Il ben godi In cui tanto Nessuno ti fa nulla Tanto le patrulli Non ci sono Non ti controllano Non ti controllano Dato che Episodii del genere Si possono affrontare Con un po' di Determinazione Ed energia E i risultati Arrivano Perché ne ha citati Qualcuno Galesi Ne potrei citare Alcuni anch'io Di situazioni Che erano Di questo genere Che abbiamo Completamente stroncato E risolto Bisognerebbe Non solo portarsi dietro La polizia locale E i carabinieri Scusate La polizia di stato E i carabinieri Ma soprattutto La polizia locale Perché la polizia di stato E i carabinieri Giustamente Ti dicono Che certo Se c'è una rissa Diventa un problema Di ordine pubblico Ma se no Non è un problema Ma se è un problema Di schiamazzi E di abbandonati Deve essere la polizia locale È la polizia locale Perché la polizia di stato E i carabinieri Non escono Per disperdere Dei Delle forze Che stanno Ad ascoltare la musica Di alto volume È una questione Di disturbo L'equità pubblica E di controllo Del territorio Che deve fare La polizia locale Dopodiché Mi auguro davvero Che si lavori insieme Perché oggi E sfido chiunque A dire il contrario Nella città di Milano Noi abbiamo In orario serale E notturno Quindi servizio Terzo e notti Abbiamo 4 E non Un numero caso 4 di numero Pattuglie Eh no no È senza senso È inaccettabile Ma per quello Io ho ribadito Che il sala Ha promesso Che avrebbe assunto 500 vigili Se arrivano veramente Le pattuglie Non saranno più qua Io consiglio Il sindaco Sala Che può avere Lo stesso risultato Senza pagare Un euro in più E senza assumere nessuno Ci sono ogni giorno 200 e passa Agenti di polizia locale Che il comune di Milano Regala Alla procura della repubblica Il tribunale di Milano Basta Che Visto che è un accordo Mi pare annuale Basta che non firmi Quell'accordo Con il ministro della giustizia E si tenga Quegli agenti sul territorio Va bene Dobbiamo chiudere per forza Siamo ritardissimi Grazie a Fabio Galesi Grazie a Marco Bestessi È finita la puntata Mi dispiace Hanno chiamato Grazie alla regia Domenico Zingaro E Silvio Valsecchi Buona partita a te Buona ripresa del campionato Ah sì Deve giocare il Milano Deve giocare il Milano Ci vediamo venerdì prossimo Insieme Con me lunedì Buonanotte Buona partita a te